Abbiamo qui con noi due persone che come dicevo ne sanno sicuramente molto più di me, alla mia sinistra c'è Biagio Russo, scrittore, esperto sumerologo, ma soprattutto un amante del mistero che insomma quando può cerca sempre di approfondire questi argomenti anche legati appunto all'ufologia, ha adottato da Pescara e quindi a Pescara qualche anno fa perché non è così anziano da poter aver vissuto di persona questi episodi, qualche anno fa ha conosciuto molto bene uno dei protagonisti di questa vicenda, uno di coloro che vide di persona gli alieni, che addirittura salì su un disco volante, una persona di totale rispetto, una persona molto colta, con un prestigio personale che per molti anni ha taciuto questa esperienza per non passare ovviamente per pazzo come spesso succede, ma che ha raccontato a Biagio molti ritroscena importanti, interessanti che andremo poi un po' per volta a svelare e invece qua a mia destra c'è Gaspar Edelama che è stato uno degli amici dei V56, è stato in amicizia molto stretta con Bruno Sammaciccia dal 60 al 65 almeno, no? È giusto? E in questi anni ha con le sue orecchie e con i suoi occhi visto cose che insomma sembrano davvero incredibili, forse anche a lei ancora oggi sembrano cose quasi... Sentiremo poi se sono incredibili o no, per me ci si abitua tutto, no? È incredibile, ma io non mi sono abituata quando l'ho sentito, allora partiamo, anni 60, lei ama l'oncologia, compra libri, conosce persone, adesso facciamo la storia un pochino rapida, grazie a queste persone arriva Bruno Sammaciccia. Quando Bruno le dice ah Gaspar e sai che c'è, io sono in contatto con gli alieni, lei che reazione ha avuto? Che cosa gli ha risposto? Sei matto? Dunque, no, io ho avuto dei precedenti, avevo conosciuto il console Perego che aveva scritto dei libri, il primo che ha scritto a sue spese dei libri su un ufo e un uomo che aveva capito tutto. Tanto è vero che parlava di queste cose, l'hanno confinato a fare il console a Belo Horizonte, là lontano. E dopo, quando c'è stato un articolo di Bruno Ghibaudi sulla Domenica del Corriere, i tre dischi formazione su Pescara, io che non lo faccio mai perché non è mia abitudine, ho voluto scrivere una lettera, non so neanche io perché, perché non c'era niente da dire, ho scritto complimenti, ci credo, finita lì. E ricevo una telefonata da Di Baudi dopo due o tre giorni, la lettera l'ho spedita alla redazione della Domenica del Corriere. E c'è una telefonata di Di Baudi che mi dice, conosciamoci, tra tutte le lettere abbiamo scelto la sua, abbiamo, venga. È venuta a casa, due o tre convenevoli e poi si è messo a parlare dicendo che era il contatto e tutto quanto. E dopo pochi giorni è tornato, puoi sentire come andavano le cose e poi mi ha fatto, dopo pochi giorni ancora, mi ha fatto conoscere Bruno e piano piano ho conosciuto tutti gli altri che erano nel gruppo, eravamo una dozzina circa. La sua prima impressione quando gli hanno detto, guarda noi siamo in contatto con degli alieni, lei anche pur essendo ben predisposti verso questo argomento, la prima reazione è ma dai, ma cosa mi racconti? La sua reazione qual è stata? La mia reazione è stata da una parte di dubbio, perché il dubbio fa parte dell'intelligenza, insomma, tutti dubitiamo senza vedere, senza sapere, però un dubbio aperto all'indagine al giorno dopo che ha detto che sarebbe arrivato in corso, insomma, è un dubbio contenuto per me, e poi il dubbio dopo 10-20 giorni se ne è andato del tutto perché ho cominciato a vedere fenomeni e il dubbio te lo cancello, no? Qual è stato il primo fenomeno strano che lei ha visto, sentito legato proprio a questa vicenda? Il primo, che non è il più eclatante, Bruno mi ha detto compro una radiolina portatile, allora c'è il gelosino, perché ti servirà? Io l'ho comprato, l'abbiamo messo sul tavolo e lui ha detto adesso loro, quando dico loro, intendo il V56, lo preparano, io non avevo mai visto niente, e entro un minuto, un minuto e mezzo, due, si è formata una fiammata alta così, azzurra, con un choc forte, e tu ecco adesso è preparata, e da quel momento si accendeva, si spegneva da sola, loro mi parlavano in italiano, io chiedevo alla radiolina e loro mi rispondevano a tono, come se mi sentissero, l'avevamo preparata, e potevo cambiare le frequenze, l'onda, la voce continuava, abbiamo provato a metterla vicino a una radiolina sincronizzata sul Milano, e la mia anche, la mia parlavano loro e quella trasmetteva la RAI, e non solo mi rispondeva a tono e mi parlavano, ma certe volte si accendeva e mi dicevano anche, Gaspare cambia pensieri, Gaspare, sì, ecco, questa è stata la prima cosa piccola, la seconda, che è stata la più trattante, Bruno e gli altri del gruppo, eravamo in dieci con la sera di circa, non le ho contate, mi ha detto alle undici, passa un'ora e mezza, e alle undici di sera esatta, era via Cappecelatro a Milano, lunga, parte da San Siro, arriva verso il viale dei Mille, eravamo tutti lì in strada, è una via piuttosto larga, e alle undici esatte abbiamo visto un puntino lucente, che è arrivato, andava pianissimo, silenziosissimo, quando aveva sulle nostre teste, io ho reputato che sarà stato 20 metri di diametro, circa, a 200-250 metri di altezza, silenziosissimo, come l'appuntamento, e noi gridavamo tutti, ciao, ciao, invece stava in silenzio, e questo è stato il primo appuntamento, il primo saluto. Quindi le cose normali, che ci diceva prima, sono queste, una radio a transistor, siamo nel 60, che si accende da sola, e dalla quale esce una voce non sintonizzata, che gli legge nel pensiero, e gli dà gli ordini, fai così, fai cos'ha, non pensare questo, o l'appuntamento, arriviamo alle undici, e alle undici in punto compare l'ufo sopra le loro teste. Queste per me sono cose incredibili. La radio è per cinque anni, eh? Cinque anni, così, di appuntamenti radiofonci. Cose sorprendenti, ma lei li ha viste e li ha sentite di persona. E poi, dopo ho cominciato a vedere gli apporti, cioè loro dovevano mandarci, non so, delle bobine con su, delle foto, o dei messaggi per quello che dovevano fare, la loro voce, che diceva andate lì, andate su Pineto a quell'ora, state lì un'ora e mezza, grazie, oppure ci incitavano ad amarci tra di noi, perché devolete, poi voglio parlare un attimo. Quindi, queste cose si formavano a mezz'aria nella stanza, cadevano, io le raccoglievo, erano tiepide, e così anche i messaggi su carta, certe volte dei saluti, ti voglio bene, erano un po' bruciacchiati in giro, e arrivavano giù i messaggi, capitavano sempre in testa. E le cose, e così le cose che certe volte mandavamo noi, le mettevamo sul tavolo, e le guardavo, e di colpo non c'erano più. Questo per cinque anni, non tutti i giorni, ma insomma spesso. E ricordo che all'epoca lei aveva 40 anni circa, era un uomo sano di mente, senza problemi mentali, tutto. Io sono del 21, quindi sì, circa 41, 40 anni, 41, sì. Una persona nel pieno delle sue facoltà fisiche, mentali, culturale, che è un pittore, una persona comunque con una sua cultura, ecco, non parliamo di una persona con dei problemi psichiatrici, giusto? Mi conferma che lei sta bene ancora oggi, si vede, ha 92 anni, possiamo dirlo, quindi, ecco. Non l'hai detto, non l'hai detto. Non l'hai detto, ormai ho confessato la sua età, per farle un complimento ovviamente. Eh, eh, ragazzi, sì, arrivarci. E quindi, e quindi, Biagio, succede qualcosa di assolutamente incredibile, che è appunto impescare inizialmente un primo punto di riferimento, ma prima che entrasse nel gruppo Signore De Lama, che cosa è successo a Bruno Sammasciccia e due suoi amici? Loro furono destinatari di una mappa, questa è la storia che è abbastanza conosciuta, una mappa che era all'interno di un baule abbastanza messo male, così come anche questa mappa antica, ma che comunque faceva vedere abbastanza bene che si trattasse della Roccapia, la fortezza che sovrasta Ascoli Piceno. Loro pensavano che potesse essere una mappa di un tesoro e quindi si avviarono ad Ascoli Piceno, ma nel loro primo tentativo non ebbero modo di trovare nulla. Ci tornarono dopo qualche giorno e mentre erano lì, che poi riflettevano su questo episodio, a un certo punto iniziarono a vedere nell'aria quelle stesse forme che si vedono nel film Avatar, che sembrano delle meduse fosforescenti e questo ci fa anche un po' riflettere che in Avatar forse si è stato riportato qualcosa. Queste luci fosforescenti precedevano la voce di una persona che in perfetto italiano gli diceva adesso usciranno alcuni dei nostri, state tranquilli e non abbiate paura. Da dietro le mura della fortezza uscirono da un posto imprecisato, almeno fino a quel momento, due persone, una alta oltre due metri e mezzo e un'altra piccolina di un metro e venti, che si avviarono verso questi tre, cioè Bruno, Samaciccia, Giulio e Giancarlo, e si presentarono come extraterrestri provenienti da un pianeta che faceva parte della nostra galassia. Questo incontro originariamente aveva uno scopo dichiarato dagli alieni, quello che potessero essere aiutati a preparare il genere umano alla rivelazione che sul nostro pianeta esistono esseri extraterrestri di sembianze come noi e che ci sono da millenni e millenni e si mischiano tranquillamente tra i generi. Tra l'altro True, proprio in virtù di queste confidenze che ha ricevuto da parte di questa persona che non vogliamo citare per motivi di privacy, sai anche esattamente dove è avvenuto questo incontro e dove, racconta questa tua conoscenza, si apriva l'ingresso della base segreta, che non è un ingresso normale, è una porta con il bottone che si apre, una base molto particolare con una tecnologia incredibile, devo sempre usare questo aggettivo, ma veramente da film di Hollywood. Ce la puoi spiegare? Allora, sì, io ho avuto l'indicazione diretta da questa persona che mi ha fatto vedere che cosa succedeva in un piccolo quadrato di terreno che a un certo punto iniziava a vibrare come se fosse sollecitato da un martello pneumatico, il terreno si apriva e veniva fuori uno dei V56. Questa persona ha comunque percorso il tunnel a ritroso, quindi è entrata nella base che, come dicevi tu all'inizio, era molto lunga, da Ortona fino ad Ancona, parliamo di oltre 300 chilometri, e di 200 chilometri di larghezza, quindi non solo sulla costa ma entrava sotterraneamente anche nelle marche. Dentro, chiaramente, ha visto che le cose lì potevano essere straordinarie, ma ad ogni modo questa base che veniva illuminata da una fonte di energia che non si riusciva a identificare, degli odori molto simili ai fiori che noi abbiamo in natura, però adesso non ricordo quale fiore in particolare, e all'interno mi ha raccontato che c'erano anche delle aule dove i ragazzi dei V56 venivano istruiti perché dovevano comunque, anche grazie all'apporto di macchine, immagazzinare tutte le conoscenze della loro generazione, cioè della loro civiltà. Erano di presenza identica a noi, si potevano distinguere per il colore dei capelli, piuttosto che dalla loro lunghezza. Questo per quanto riguarda l'interno della base. Poi ci sono anche altre esperienze. La materia era simile alle mura che noi possiamo normalmente vedere anche in questa stanza. C'era una cosa in particolare, che questa base era stata creata facendo una manipolazione del terreno, ma senza danneggiarlo. In sostanza questa base poteva anche essere distrutta, quindi richiusa soltanto con il gesto del premere un pulsante. sarebbe implosa e il terreno sarebbe tornato alle dimensioni originarie, quindi andando a riempire quello spazio che in precedenza era stato dato alla base. Praticamente si può immaginare un uso della materia che veniva compressa e poi tornava naturalmente alla sua posizione. Sì, è così senza andare a disturbare l'ecosistema comunque che la secondara. Quindi ora lì non c'è più niente, lì sotto non è che andiamo a scavare, troviamo qualcosa? No, anche perché era sotto il mare. Sì, per parlare sulla base, uno di noi, Franco, che adesso è ancora vivo, ma è una storia triste, se c'è tempo la dirò, mi spiegava, lui è stato molteplici volte in una base, e mi spiegava che siccome non ci sono punti luminose, ma l'aria stessa, ogni particella dell'aria è luminosa, per cui non c'è nessuna parte del corpo che è mai in ombra, è tutto illuminato, per cui in un primo momento fa un po' un effetto strano, perché non essendoci ombre non abbiamo più l'effetto della terza dimensione, si vede tutto piatto. Ecco, fa questo effetto. Il primo appito sembra un mondo piatto, non ci sono le distanze precise. Tutto questo ricordo succede nel 1956, da 1956 in poi, quando non c'erano ancora i film di Hollywood come li vediamo oggi, non c'era il sistema digitale per creare effetti speciali strepitosi, gli alieni all'epoca erano dei grandi baccelloni che duplicavano i corpi umani, eravamo a questi livelli di fantascienza. Quindi pensare nel 1956 alla luce che si autocrea dalle particelle dell'aria, piuttosto che la materia che si disgrega e si ricompone, oppure ancora le materializzazioni degli oggetti che compaiono e scompaiono, era almeno una forma di precursione notevole dei tempi della fantascienza. Infatti c'è un particolare che mi ha sempre molto incuriosito e anche un po' fatto stupire. I V56 vi domandavano spesso un favore, cioè volevano frutta, verdura, questo cibo perché non mangiano altro, frutta e verdura per quelle... Ricavano della frutta qualche sostanza che io non so con precisione quale, ma non è che mangiano i frutti, ricavavano qualche cosa che non so. Però cosa succedeva? Chiedevano appunto a Bruno per esempio ci porti una tonnellata di frutta, lui andava a comprarlo ovviamente perché andava comprato, portavate il camion in un certo punto e quando c'era il camion carico di frutta cosa succedeva? Lei l'ha visto con i suoi occhi? Succedeva che noi prendevamo il conducente e gli dicevano andiamo al bar a bere qualche cosa intanto che aspettiamo i colleghi che vengono a scaricare e quando era scaricato io avevo un certo segnale e gli dicevo ecco andiamo, come? È già fatto? Sì, allora guardavano, era pulito, netto, come se... ma che bravi, ma che veloci, ma come fate? Lei è gente esperta, dicevamo. Perché in realtà si smaterializzava tutto. Sì, sì, di colpo portavano via. Lui l'ha visto? Poi, sì, questo l'ho visto tre volte, adesso non le ho contate, come i dischi per appuntamento nel corso di cinque anni le ho visti otto, non le ho contate neanche sette, otto volte. Parliamo di questo perché le immagini che vedete sono il superotto che ha filmato il signor De Lama tra il 60 e il 65, questo è più o meno Milano, no? Lei abitava a Milano? Trenno, ecco, appena fuori Milano possiamo dire. Sulla provinciale per Novara. Perfetto, allora cosa succedeva? Arrivava un messaggio a chi? È arrivato un messaggio a Bruno che mi hanno detto guarda, Gaspari, che gli amici vogliono farti un regalo. Benissimo, tu cos'è? E guarda, sceli tu un posto che vuoi, campi che non ci siano tralicci, va bene. E allora io ho scelto da Toli, abitavo allora in Piatto Giulio Cesare, San Siro, provinciale per Novara, e ho scelto questo posto, vado da Bruno e dico guarda, l'ho scelto. Vabbè, un di questi giorni andiamo, dopo due o tre giorni mi dice andiamo oggi, va bene. Allora mi ha detto compra una bobina ad 8 mm, mi ha detto tieni tu la macchina, la macchina era sua, mettila dentro tu, ho messo e infilato la bobina, siamo andati sul campo, oltre a noi due c'era anche un suo nipotino che aveva avuto 9 anni, un ragazzino Bruno, con due pali di legno, anzi così, fatti da Bruno, in maniera rudimentale, e questo bambino li ha tenuti uno con una mano, uno colata, infizzati, aveva una punta come quelli dei pali del Dracola, li ha infilati nel terreno, e questo bambino li teneva con una mano e con quell'altra, e io filmavo, e Bruno dice firma, ma non c'è niente, tu firma, e io filmavo, ma non sta fermo, gira, e io giravo, e dopo ogni tanto mi prendeva lui la mano, fa, aspetta così adesso, no, cosa, e io dico, non ho visto niente, e dici, beh, adesso vai, fai sviluppare la pellicola, io l'ho portata da Ferragna, mi ricordo in Corso a Matteotti, il giorno dopo sono andato a ritirarla, sono andato a casa, avevo la proiezione, l'ho proiettata contro il muro, era quel film qua, è stata l'unica volta che ho filmato una cosa che non ho visto niente, perché loro l'hanno proiettato direttamente sulla pellicola, avevano vari mezzi di ottenere questa, questo fenomeno, uno a proiettarlo dalla base sulla pellicola, l'altro era quello di contornare il disco di particelle luminose simile al cielo, questo lo fanno quando non vogliono farsi vedere, si contornano di una pellicola simile al cielo e noi non vediamo più niente, però mettiamo che la mia faccia sia il mezzo loro, è tutta ricoperta di questo pellicolo, però fa da imbuto e va sull'obiettivo della macchina, la presa, oppure può andare anche sui tuoi occhi e non su quelli della persona che ti è vicino, ecco, ma possono far tutto, anche la voce che io sentivo per Radiolina, loro mi hanno detto potremmo fartela scaturire nella stanza, così, ma è troppo stressante, preferiamo questo mezzo, se volessero farsi passare per Dio, ce la fanno. È impressionante questa frase, quindi abbiamo visto un posto appuntamento, un orario lo sceglieva lei, il posto lo sceglieva lei, apparivano questi dischi volanti, dicevamo Biagio che questa persona che tu hai conosciuto è salita su un disco volante e ti ha raccontato l'esperienza incredibile, uso sempre questo oggettivo, ma non me ne vengono altri, pazzesco, fuori dal mondo, vai. Ma diciamo che questo episodio nasce per una scommessa da parte del signor X, chiamiamolo così, che al pilota del disco volante chiede scommetti che se facciamo una rotta triangolare negli angoli il disco perde velocità, perché secondo il pilota questo non sarebbe dovuto accadere. Il pilota, tra l'altro, disegnanze umane, perfettamente umane, diceva bene, proviamo. Lui salì sul disco e provò una sensazione particolare. Il disco sembrò muoversi pochissimo, tanto da dargli il dubbio che effettivamente avesse preso il volo, ma accanto al monitor c'era un rilevatore di velocità dal quale lui prese tutti i valori, il disco si alzò a 20.000 metri di altezza, fece Pescara, Tel Aviv, Mosca, tornò indietro in un'ora e mezzo e dai valori del monitor il disco negli angoli perdeva velocità. E lui vinse la scommessa. La cosa particolare che vorrei aggiungere è su alcuni particolari del disco. Uno in maniera particolare è il monitor. Il monitor che aveva delle dimensioni 30x50 era un monitor a cristalli liquidi, touchscreen, mostrava delle icone alla Windows, il pilota toccava una di queste icone, si apriva un'altra finestra, su questa finestra c'erano esclusivamente comandi che non potevano far cadere in errore il pilota. Stiamo parlando della fine degli anni 50, parliamo quindi di monitor a cristalli liquidi e di sistema operativo alla Windows. Che cosa dire? A me vengono ancora i brividi, è incredibile. Le dico ragione quando dico che è incredibile. Ma il signor De Lama voleva dirmi un particolare su questi UFO che lei ha ripreso, perché io ho avuto già modo di intervistarla, si ricorda, ecco, un po' di tempo fa, e lei mi aveva detto io avevo la sensazione che questi però non fossero i loro veri dischi volanti con i quali erano venuti fin qua, ma erano come dei piccoli mezzi di trasporto che usavano per i piccoli viaggi. Cosa le faceva avere questa impressione? Ci sono dei mezzi di trasporto che sono atti per il pianeta. Per esempio questo qui che si è visto alle mie spalle, quello che ho fotografato a trenno, lui lo chiamavamo noi del gruppo, lo chiamavamo Tupolino, perché era più piccolo, aveva 4 metri di diametro, ed era depito, anzi dopo se vengono le immagini spiegherò alcune cose, cos'è quella cosa nera, il perché, eccetera, eccetera, che mi sono state spiegate anche a me. E a proposito poi di quello che diceva il signor Biagio, se un pilota loro volesse girare in giro la madonina dell'uomo di Milano in pieno giorno per mezz'ora, per farci dire, sì ci sono, ecco, siccome c'è un ordine di controllo superiore che non possono fare passi falsi, non voluti, sia nel male che nel bene, se un pilota di loro impazzisce, non capita, ma facciamo un'ipotesi, e ne stasse un comando simile di girare in giro la madonina, il disco è parato in maniera che non obbidisce, ecco, no, non può farlo, ecco, come anche certi dischi che, è rarissimo, non sono perfetti, ma l'hanno detto loro, non siamo perfetti, non siamo infallibili, però un loro disco che sta precipitando ha un congegno automatico che si disintegra, per cui, io penso, ma questo lo penso io, è farina del mio sacco, io penso che quei dischi che ci sono nell'area 51, se ci sono, sono voluti, li hanno fatti cascare apposta per dire, guardatevi un po', ecco. Tra l'altro, non l'abbiamo ancora detto, ma perché li chiamavate W56, W56? perché W56 è viva, W56 perché è l'anno in cui sono arrivati giù, ma Breccia ha detto Acry, e senz'altro non si sbaglia, però noi li chiamavamo W56, tanto è vero che loro, una volta ci hanno mandato una fotografia con uno di loro, che sulla tutta aveva scritto W56 per ridere, Ecco, una cosa, poi dopo, lascio continuare il discorso, l'ultima cosa di quello che ho visto, io la racconto volentieri, perché è stata una cosa che ci ho speso due, tre lacrimocce per questa cosa, perché mi ha commosso, ero su a Pineto, che ha una collina stupenda, sulla mia destra il mare, sulla sinistra le colline abruzzesi, e una giornata di sole stupenda, dove tre pomeriggio, ero lì perché dovevo stare lì, a fare da palo, noi dicevamo, fai da palo, tra virgolette, e c'era la radiolina, si è accesa, c'era Sigil, che mi diceva, Gasperi, so che vorresti essere giù con noi, ma tu non sai invece quanto mi piacerebbe essere io lì con te, sotto quel sole magnifico, sotto quel pino, io ero appoggiato al pino marittimo, sotto quel pino, dove adesso, sulla tua destra, sta arrivando l'uccellino, e io guardo, c'è un passerottino che arriva, e che adesso si poserà su un ramo, sulla tua testa, e quello si posa su un ramo, e che adesso cinguetterà, e quello dopo pochissimi secondi cinguetta, e che tra poco se ne volerà via, due o tre secondi e volerà via. Quindi, sanno anche le intenzioni che hanno gli animali, che abbiamo noi, hanno una tecnologia che fa venire la pene d'oca. Abbiamo detto questo nome particolare, Acri, che compare appunto in un libro che nel 2007, giusto, scrive Stefano Breccia, ed è un libro che sconvolge un po' il panorama ufologico mondiale, perché infatti Bruno Sammaciccia, dopo aver tenuto per tanti anni questo segreto anche dentro di sé, perché nessuno di loro ha mai detto una parola di quello che succedeva, convince, Sammaciccia, convince Breccia scrivere questo libro, infatti viene preparato, perché Sammaciccia stava male, dagli a poco sarebbe morto, voleva lasciare una testimonianza per tutti quanti i posteri, quindi esce questo libro che è Contattismo di massa, in italiano e in inglese, e c'è proprio questa spiegazione di questo nome che ha anche un po' un significato anche storico, perché... Sì, perché Acri deriva dal sanscrito, che vuol dire saggi, e noi questo termine se vogliamo lo ritroviamo nella definizione che si davano i sumeri, saggi, ma che tradotto significa teste nere, ora sarà una coincidenza, però comunque è sanscrito e non è sumero, quindi non confondiamo le cose. Quindi questo popolo alieno è un popolo unico oppure in questa base ci sono diciamo questo termine tante diverse razze diverse? Sì, ci sono tante razze provenienti da pianeti diversi, pianeti orbitanti intorno a stelle che comunque fanno parte di costellazioni della nostra galassia, non extra galattiche, quindi questo il mio interlocutore ci ha tenuto a precisarlo perché in alcuni casi c'è chi ha riferito che i V56 provenissero da una confederazione intergalattica e invece no, mi diceva, è una confederazione galattica, sono dal punto di vista dell'aspetto esteriore quasi simili a noi, dico quasi perché qualcuno comunque di tre metri e mezzo non possiamo dire che sia uguale a noi, si differenziano per il colore della pelle, alcuni dei quali avevano un colore celestino e qui ritorna il concetto di avatar. Questi uomini blu di cui si parla fra l'altro anche nelle tradizioni della Sardegna è un'altra cosa particolare, uomini elettrici, uomini molto alti dalla pelle blu e se ne parla nei millenni passati. Per una cosa ti volevo chiedere perché poi ci spiegherà bene il suo punto di vista come l'ha vissuto Gasper de Lama ma per quello che sappiamo dagli altri testimoni dai testi, cosa volevano questi alieni agli umani? Cosa chiedevano? Amore perché l'amore cosa serviva a loro? C'era un termine particolare che usavano. Sì, sì, in sostanza l'amore genera energia così come anche l'odio con la differenza che nel primo caso è energia positiva e nel secondo è energia negativa. Diciamo che il loro dialogare comunque spesso verteva sulla filosofia che oggi oggi ma è da secoli trova corrispondenza nelle filosofie orientali che poi sono diventate filosofie di religione perché trattando la vita la vita è sacra e quindi sono filosofie di religione. Ora la energia in particolare che serviva loro era urenda questa energia che doveva servire per alimentare le macchine. Il mio interrogatore diceva che chiaramente l'unione del gruppo probabilmente il lavorare insieme per procurare la frutta quindi la cooperazione del gruppo generava sicuramente una coesione di energia positiva che loro sfruttavano per mantenere in vita le proprie macchine. Ha aggiunto però che là dove oggi noi vediamo che so sopra i concerti dove ci sono 200.000 persone di stadi eccetera che ci sono gli ufo molto probabilmente ci sono perché quel gran gruppo di persone genera energia positiva che loro sottraggono per portare avanti i loro progetti. Ovviamente non è un'opinione nostra ma la materia è energia noi siamo energia quindi l'energia fa parte di tutto quello che noi vediamo qua attorno ma lei che l'ha vissuta quando gli dicevano dovete volervi bene dovete essere tutti quanti uniti questa uredda che cosa pensava lei come l'ha vissuta questo particolare? Dunque siamo arrivati al clou della ragione per la quale i 156 erano qua almeno così penso la ragione secondo me ma è un mio pensiero guardate bene certo l'ho condiviso con gli altri del gruppo era chiamiamolo esperimento anche se la parola non è molto simpatica era un esperimento basato su quanto su come noi umani di fronte a un fatto simile potessimo essere coesi e amarci veramente tra di noi ci han detto che l'amore è un'energia come l'odio come la consapevolezza tutta energia come il pensiero e loro per un patto diciamo con questo noi lo chiamavamo uti con questo organo superiore di controllo che faceva persino parte di un'altra dimensione non potevano sia gli uomini che gli altri poi parleremo anche degli altri non potevano fare né più così di male a pianeta o a noi né più così di bene per cui tutto era controllato era controllato il fatto che i loro strumenti nelle basi nei dischi funzionassero grazie al nostro unetto era come la loro benzina funzionava solo se noi davamo questo amore che loro sapevano come captare e convogliare con i loro strumenti e qui arrivano le note dolenti perché a lungo andare negli anni è stato più più grande il nostro ego chiamiamolo così per dargli una veste elegante che l'amore per loro ci sono state delle diatribe tra quelli del gruppo dei litigi delle invidie e loro se ne sono andate detto questo detto in parole poverissime perché ci hanno spinto tante volte ci facevano delle romanzine molto dolci quando io mi sentivo parlare se mi interessa la mia impressione dal primo momento che mi parlavano mi parlavano d'amore di affiatamento di amicizia di che cos'è l'amicizia di cosa può fare l'energia dell'amicizia diversamente dall'energia di altri sentimenti e io sentivo avvertivo netto netto che chi mi parlava loro erano umani e io non lo ero ecco la sensazione è stata quella mi stanno parlando delle persone umane e io non lo sono ancora ecco e questo poi che certe volte ci facessero fare delle cose come portare acqua sulla base di pineto tre barili d'acqua abbiamo ficato tre barili d'acqua portati su con un camion secondo me sempre il mio parere perché sbagliarmi cercavano inventavano delle situazioni per farci fare qualche cosa nel loro riguardo per tirarci fuori dell'amore per coinvolgerci io ho avuto questa netta sensazione giocavano forzatamente ci trattavano come noi giochiamo con un bambino di tre anni il loro parlare si adeguava al nostro le loro idee si adeguavano alle nostre sono loro che hanno dovuto scendere al nostro livello per farsi capire e noi non poter salire a loro sono parole abbastanza toccanti in effetti loro erano umani e noi non ancora siamo un po' indietro un po' indietro sulla scala evolutiva almeno morale però dicevamo non erano soli i V56 c'erano anche degli altri alieni che poi non si distinguevano da loro se non per la volontà e avevano anche questo un nome inventato chiaramente dagli umani sì era CTR che poi era Contrari i Contrari c'è secondo me un particolare molto importante che forse a mio parere riesce a chiarire alcuni aspetti di questa straordinaria vicenda la persona che mi ha fatto queste confidenze è uscita dal gruppo ancora prima che il caso Amicizia finisse in quel novembre del 78 con tutte quelle manifestazioni ufologiche eccetera eccetera la marina di Pescara non usciva più dal porto perché tra l'altro un peschereccio era stato ribaltato da una bolla d'aria dicevano di metano ma poi così così non era perché un mio caro amico che oggi ha una certa età all'epoca era in perlustrazione con un elicottero del porto della marina di Pescara certamente un militare dovette mantenere il silenzio e disse che da là uscivano le macchine volanti non era certo gas e questo determinò come dicevo prima il rovesciamento di un peschereccio e la morte dei suoi occupanti ecco perché questa persona è uscita dal gruppo perché a un certo punto non comprendeva più quale fosse l'obiettivo quel messaggio iniziale cioè di aiutarli a preparare il genere umano alla rivelazione che sulla terra c'erano degli extraterrestri e non solo perché alcuni di loro dicevano di essere ex terrestri terrestri di addirittura milioni di anni fa presenti sulla terra non aveva più seguito e tutto sommato si trattava di un continuo apporto di frutta senza raggiungere una meta finale ma non solo questo ci fu il colpo di grazia diciamo ci fu il colpo definitivo che fece che questa persona decise definitivamente di uscire dal gruppo lui scoprì che alcuni dei V56 erano anche alcuni CTR e questo era grave perché c'era gente che faceva il doppio gioco allora che gioco è che cosa vogliono fare questo francamente è inquietante perché questa testimonianza non fu unica ma anche altri si accorcero di questa dualità di questo cappello da prestigiatore che veniva tolto o messo a seconda delle delle situazioni e quindi il mistero si infittisce ancora ancora di più quindi non soltanto rivalità ma in questo caso una situazione soggettiva che tra l'altro provocò anche degli strascichi a questa persona che sebbene fosse uscita dal gruppo comunque in una certa maniera era sempre come dire stuzzicata dai V56 che erano capaci di tutto anche di manipolare la mente anche di far vedere a lui cose nella sua mente che in effetti non esistevano beh lui è stato vittima diciamo di un terremoto mirato anche questo è incredibile perché perché in casa sua crollarono nella sua stanza crollarono le statue una statua in particolare la moglie che era al secondo piano non si è corso assolutamente di nulla quindi ecco anche questo fa riflettere perché i terremoti mirati si potrebbe entrare adesso nel discorso di Arpo c'è tutta una questione che si dice vabbè non è né il momento e non c'è nemmeno il tempo per poterne parlare però chiaramente quell'obiettivo principale per lui era sfumato però in sostanza si può dire che era diverso proprio l'atteggiamento mentale di V56 rispetto all'umanità e quello invece dei CTR cioè gli uni volevano in qualche modo essere d'aiuto mentre gli altri dicevano preghiamoci né cosa c'entra dell'umanità è così? Sì sì è così gli altri erano molto tecnologici come mi è stato riferito privi di sentimento se dovevano raggiungere un obiettivo non avevano gruppo insomma ecco la loro crescita non rispettava nessuna filosofia morale al contrario invece tutto l'approccio che avevano i V56 nei confronti degli appartenenti del gruppo quando gli ho chiesto ma cosa volevano questi CTR le hanno fatto una spiegazione molto un esempio molto calzante è una cosa complicata mi ha detto neanche a noi l'hanno mai spiegata bene perché non siamo in grado non umani di capire le loro logiche ma un po' mi ha spiegato come quando uno del PD cambia partito ed entra nel Movimento 5 Stelle oppure uno di AN cambia partito e va da un'altra parte più o meno così dunque e qui la cosa si fa un po' complicata ed è però il noccio della questione loro non si prevetto come ho già detto prima non siamo perfetti e non siamo infallibili anzi nei loro cieli nei loro voli sui loro sui loro pianeti vedono come noi vediamo gli UFO vedono delle astronavi enormi dice una cosa pazzesca che loro chiamano le astronavi di cristallo e cercano di avvicinarle cercano cercano di contattarle ma queste eludono da secoli eludono il loro approccio e loro hanno capito benissimo che non è il momento sono esseri superiori per i quali non è ancora arrivato il momento tra loro e i voci 56 come adesso non è ancora arrivato il momento tra noi e i cosiddetti UFO detto questo io avevo chiesto parlando con Sigi per radio ma cosa sono questi CTR sono cattivi cosa danno il calcio alle vecchiette cosa fanno e Sigi mi ha risposto guarda è una cosa complicata da spiegarti non conosci abbastanza nessuno di voi conosce a fondo la politica dell'Italia figuriamoci dell'Europa figuriamoci se potete capire cosa c'è sotto veramente alla politica del mondo figuriamoci alla politica galattica però per darti un'idea ecco un'idea misera minima ma ragionici sopra fantastica c2 è questo c'è un pianeta metti un pianeta disarmonico che manda energie negative disturbanti per il volo per il sistema solare se il pianeta è disabitato i CTR hanno i mezzi tecnologici per eliminarlo noi cerchiamo di ovviare con la nostra tecnologia ai diciamo ai disturbi che questo pianeta può dare ma se è nel creato c'è anche lui lo rispettiamo pensiamo che è un super che è comunque è una creatura vivente perché tutti i pianeti sono creature viventi con i quali siamo tutt'uno anche se non ce ne accorgiamo e quindi questo pianeta noi lo rispettiamo ecco da questo puoi capire tu fantastica tu quindi sono ideologie molto diverse come diceva anche lui però a me è stato detto che nei loro pianeti che fanno parte di una confederazione galattica fatta da miliardi di popoli detto per inciso non sono tutti i popoli sì la maggior parte la stragrande parte sono pochi che hanno presso a poco una tecnologia evolutissima ma ci sono anche pochi popoli nella loro confederazione che come tecnologia sono lo stato come i nostri servizi però sono così evoluti spiritualmente che loro le hanno fatte entrare nella loro confederazione quindi quello che conta è l'evoluzione spirituale l'evoluzione tecnologica per loro conta poco la usano perché ci sono arrivati ma conta poco di cambi di cappello come hai detto tu ecco io io proprio qui sulla terra non ne so niente quindi non oso dire niente perché a me non risulta che sia successo so perché mi è stato detto mi sembra da Sigi non sono ma l'ha detto Sigi ma l'ha detto Meredith so che nei loro pianeti c'è stato qualche volta che un gruppo specialmente di giovani 56 sono passati dall'altra parte perché hanno sposato l'ideologia e viceversa e viceversa e quindi quelli CTR che abbiamo chiamato noi CTR CTR Contrari ecco sono le ci manca la ci manca la N ecco noi abbiamo chiamato CTR appunto Contrari però se venissero giù i Contrari credo che noi faremo staremmo molto meglio che come adesso comunque perché ecco però c'è questa lotta tra di loro loro parlato di lotta mai di guerra ha detto gaspare non mettete in mente una guerra di trincea con bombe o raggi disintegranti e più che altro psicologica però hanno dei livelli tali che riescono a fare dei danni anche attraverso la psicologia quindi è una guerra un po' impensabile per noi mentre noi parliamo scorrono appunto queste immagini che sono queste come dicevamo prima le fotografie e ecco questo è particolare questo è freddo no? questa cupola particolare questo disco noi lo chiamavamo il topolino era 4 metri massimo di diametro e sulla cupola c'è una specie di altra cupoletta piccola nera che però certe volte pencola a destra certe volte dritta certe volte pencola a sinistra perché non fa parte del disco è un'energia è uno dei pochi dischi che hanno ancora questa tecnologia oggi come oggi sarà superata perché anche loro ecco era solo un disco che serviva come ricognitore tra virgolette sulla terra come propulsione si volava sfruttava i binari magnetici della terra quindi era tecnologicamente serviva loro per scopi unicamente terrestri questa cupoletta nera era un avvenzarsi di un'energia scura che si formava per dire cose che non posso capire e si formava e poi si volava lungo le fiancate e si appoggiava sul bordo della cupoletta tanto vero che in certe immagini quella di prima poi qui è molto sbiadito io c'ho casa le fotografie ben precise il bordo questo è il disco qui c'è la cupoletta e qui c'è il bordo che sembra una saldatura mal fatta perché è un po' ondulata non è una saldatura mal fatta ecco questa polvere nera che scende e si condensa a secondo dei casi un po' qui un po' là e poi scivola lungo la fiancata e scompare nell'aria si si disperde e prima che si riformi c'è un lasso di tempo tanto vero che ci sono delle immagini in ultimo che non c'è più quel disco ecco prima c'è la campagna e io ho fotografato lì poi dopo quando stavamo tornando a Milano che si vedono le case della periferia di Milano ecco Bruno mi ha detto ferma la macchina che ci sono ancora loro sempre invisibili ma Perrado diceva ci siamo ci siamo e l'ha fotografato e il pennacchio che non c'è più ecco volevo solo dire questo perché è l'unica cosa tecnologica che ho capito bene e il resto non ho capito niente questi sono invece gli articoli veri negli anni 70 78 Corriere Adriatico Corriere della Sera Repubblica che raccontano quello che ci spiegavi tu cioè si è stato un periodo di avvistamenti incredibili eccezionali straordinari nell'Adriatico con delle vittime ma com'è che veniva spiegato ripete un attimo che si trattava di bolle di metano metano che fuoriusciva in maniera naturale dal fondale marino e creava queste bolle onde anomale fine ma come ho detto prima chi ha visto ecco questa è la bolle metano questo invece è uno degli alieni questo signore emultato questo signor De Lama insieme appunto agli amici del caso Micizia anni 60 Bruno Samaciccia al centro col bicchiere in mano che è stato un po' il punto di riferimento di questa esperienza Gasper De Lama insieme a Bruno e il vostro il cane il cane lupo Dicca che anche lui aveva degli avvistamenti UFO anche lui partecipava comunque è addosso anche lui si è ammesso anche lui lo trovavano anche il cane questa è la foto di voi nel 1960 questo è una foto un po' particolare nessuno può provare che sia davvero un alieno vero Biagio però c'è qualcuno che ha fatto degli studi in base all'altezza dello staccionato dietro della magna cosa è voluto fuori di questo ragazzone tipo giocatore di basket che la sua altezza è di tre metri e mezzo è il pennacchio sì sì che la sua altezza è di tre metri era di tre metri e mezzo e oltretutto questo personaggio V56 che si chiamava Kenio mi correga se sbaglio perché io vado a memoria ma lei ha avuto l'esperienza diretta era di origine terrestre cioè era nato sulla terra e oltretutto ecco ci sono alcuni particolari che credo che siano meritevoli di esposizione la loro vita la durata della loro vita loro avevano una vita lunghissima in rapporto alla nostra perché uno di loro di impietro se ricordo bene aveva 1200 anni ecco vivevano fino a 3000 anni dice circa ecco e come avveniva tutto ciò loro periodicamente avevano grazie alla tecnologia di cui erano possessori la possibilità di rigenerare le proprie cellule certo questo non poteva avvenire all'infinito alla fine quando ciò accadeva c'era la fine della vita improvvisamente e sulla scorta di questo io devo raccontare un episodio di cui sono stato attore principale perché io con questa persona avevamo con il signor X come l'ho detto prima avevamo un appuntamento dovevamo incontrare un'altra persona e arrivati sotto casa di questa terza persona c'erano due uomini uno che era seduto sulla motocicletta e un altro che era in piedi ora l'altezza sì i due metri fanno poco perché insomma di baschettisti è pieno è pieno insomma è normale vedere delle persone che sono alte due metri io ebbi la sensazione di averlo già visto questo ragazzo perché apparentemente aveva intorno ai 35 anni che salutò me e l'altra persona che era insieme a me ma questa cosa mi colpì tant'è che a un certo punto confidai le mie perplessità al mio interlocutore il quale disse guarda che questa sensazione ce l'ho anche io e l'ho visto ma non mi ricordo dove bene da quell'incontro poi è passata una settimana a me venne in mente dove l'avevo visto mi ricordo se era il 12 di agosto piuttosto che il 24 di agosto io partecipai a Pescara a un congresso dove presentai una parte delle mie ricerche che erano state pubblicate nel mio libro e alla fine del mio intervento questo ragazzo venne a complimentarsi e mi dette la mano io l'ho visto lì ok è normale il mio interlocutore dice beh sì pure io l'ho visto l'ho incontrato una volta in un aeroporto dove io stavo facendo delle esercitazioni ah vedi abbiamo risolto l'arcano e dice sì però io quelle esercitazioni le facevo 35 anni fa e lui quindi aveva visto quella persona con quelle sembianze 35 anni prima a me mi vengono i brividi sposare ma insomma ecco allora anche i V56 muoiono ecco però la morte gli hanno spiegato cos'è la morte queste cose che adesso vi dico le ho sapute da Bruno che le sapeva io sono entrato 5 anni dopo di Bruno quindi perché non le ho mai chieste a loro quando loro mi parlavano c'erano gasperi chiedi vuoi sapere qualche cosa ma dopo averli sentiti parlarmi con cuore in mano pieni d'amore stare lì a chiedere cosa mangiate i bambini come li fate non mi veniva neanche in mente non avevo più bisogno di domande per poi come nascono come morono tutte queste cose le ho sapete da Bruno io l'ho detto loro allora tornando alla morte vengono circa 3.000 anni può capitare il caso che uno si spenga come ha detto ma solitamente siccome hanno la facoltà di rigenerare le cellule potrebbero vivere anche di più ma dopo 3.000 anni hanno fatto tutte le esperienze adatte a un salto quantico della loro evoluzione animica ecco immaginatevi ognuno di noi 3.000 anni sulla terra faccio il pittore poi faccio il musicista poi faccio lo sportivo poi faccio l'attore poi faccio l'impresario poi faccio l'imprenditore in 3.000 anni quindi quando in tutte le varie branche ho dato me stesso ho dato il meglio basta esperire ripetere le cose quindi quando loro hanno vissuto sufficientemente si sentono completi si sentono completati e che hanno desiderio di andarsene ci sono delle chiamiamo le camere apposite con degli strumenti appositi che agevolano e che la passa quindi un'etanasia dolcissima e loro adottano questa questa forma poi per quanto riguarda invece la nascita così nebulosamente mi sembra di ricordare che volendo possono farvi nascere in provetta però avendo notato che il bambino che nasce come lo facciamo nascere noi ha un impatto energetico d'amore maggiore perché i due partner che si uniscono si sottintende con amore non per altre ragioni si uniscono tutti e due amandosi in quel lato danno un'energia a bambino che è un'energia di vita di superiore che un bambino nato in provetta ecco questo mi è stato detto da Bruno me lo ricordo ma le hanno anche parlato Bruno o altri compagni di questa avventura di rincarnazione cioè della possibilità che queste anime poi in questo ciclo animico continuino a rincarnarsi qui il discorso si fa un po' un po' difficile perché va al di là della nostra comprensione nel nostro cervello che è volente o non volente anche per un artista è sempre razionale non possiamo accettare il paradosso perché dire esiste Dio sì e no non ci va bene o sì o no ecco per cui invece se fosse la verità dico se fosse è un esempio il nostro cervello non accetterebbe perché ma dobbiamo abituarci a capire che la verità contiene il tutto quindi contiene anche il paradosso ci arriveremo un giorno o l'altro così come per l'amore l'amore è un'energia che dobbiamo usare anche se la parola non è bella verso il nostro prossimo e salendo si cambia il vestito noi temiamo ancora la morte perché abbiamo poca consapevolezza e non ci ricordiamo le vite passate ed è un bene perché probabilmente ci ricorderemo anche delle nefandezze che porteremo dentro come peso inutile loro hanno una consapevolezza tale che si ricordano della vita passata delle vite passate per cui la morte non diventa è come noi andiamo a letto senza paura sappiamo che ci sia nulla per un po' che possiamo sognare e ci si risveglia è tutto lì il nostro tormentarsi per loro il nostro tormentarsi è la loro morte quindi ecco perché vanno allegramente nella camera che li fa trapassare quando tutto è finito sanno sanno dove vanno e quindi questo amore che va trasceso li porterà sempre in piani più diversi e dove un bel momento abbiamo trasceso l'odio benissimo rimane l'amore come campo di prova quando tu arriverai dopo infinite vite non so quanto ognuno fa quello che sceglie di fare se è molto coraggioso ne fa poco se ti è più ne fa tanto di arrivare a un punto dove non c'è neanche più il corpo si è pura energia già i v56 erano alti tre metri tre metri e mezzo e pesavano trenta chili ma erano come noi toccandoli non si vedeva attraverso come un vetro è come noi siamo più leggeri più diafini di un toro il toro ha i muschi più massicci dei nostri appunto perché è più animale è più materiale è più tratto dalla materia noi siamo già più diafini di un toro in certi casi la trascendiamo sappiamo trascendere la materia sappiamo trascendere in certi casi il sesso quando non deve esserci sappiamo quindi loro arrivano a stadi a loro utili tali che il corpo si fa sempre pre diafono e la loro visione sempre più divina dico divina come qualità Dio potrebbe essere una qualità un tutto o una qualità non stiamo più a definire Dio fino a che siamo qui sappiamo di essere corpi racchiusi anime racchiusi in un corpo questo corpo si fa sempre più sottile si trascende l'odio e si è solo amore l'odio diventa impensabile infatti nei pianeti dei voci quantaseri mi diceva uno di loro mi sembra Sigil che loro non sono felici se l'altro non è felice non è così per noi insomma ecco loro proprio non sono felici se tutti gli altri non sono felici quindi concorrono a essere più felici più su ancora siamo in una maniera ancora diversa ancora più più divina più su ancora come si è trasceso l'odio si trascenderà anche l'amore cosa rimane allora io ho sentito dire se ho capito bene siamo tra amici vi dico le cose che ho sentito dire ve lo dico prima le ho capite sì e no ma ve lo dico siamo qui parliamo io che parlo con il cuore in mano così quello che mi esce dalla bocca mi esce dalla bocca davanti rimane se non c'è più abbiamo trasceso l'odio abbiamo trasceso l'amore rimane l'equilibrio essere in perfetto equilibrio perché l'amore ci vuole ma l'odio occorre perché Dio lo permette Dio non è che il diavolo abbia vinto su Dio il diavolo fa tutto quello dico il diavolo per intenderci il diavolo fa tutto quello che Dio permette per cui questa cattiveria questa negatività è importantissima polo negativo e polo positivo per cui quando si è nell'equilibrio si diventa anche creatori con questo equilibrio bene e male quando si diventa così divini si diventa anche creatori c'è un creatore e ci sono anche dei sottocreatori sempre che creano sempre con la legge sotto la legge del creatore a me è stato detto questo quasi religione non siamo più nell'ambito ecologico parli tante foto che abbiamo visto una cosa che mi fa molto curiosità c'è una molto particolare di cui Gasper mi dice sempre a me non ne so assolutamente nulla eppure il protagonista è lui c'è la foto di un Gasper giovane con dietro un corpo messo non c'è ancora un corpo incorporeo uno spirito con una specie di macchia nel centro del petto che sembra un grandissimo cuore alto 4-5 metri una foto polaroid non falsificabile per termine di polaroid digitale tra poco la vedrete dove appunto si vede lei in primo piano è dietro questo genio perché sembra proprio l'immagine di un genio spirituale lei non si ricorda assolutamente che c'era qualcuno accanto a lei quel giorno nella foto eccola questa qua l'abbiamo vista questo cuore nel centro del lei si ricorda di questa foto? dunque intanto io sono quasi ai margini della foto ecco allora va detto che Bruno quando fotografavamo i dischi c'era il rovolino di 12 magari arrivava a 11 foto aveva premura di venire a riscattare l'ultima magari passavo io quindi io mi ricordo lì siamo in Corso Europa di Montesilvano io sono ai margini della foto mi avrà detto guarda qui io ho guardato lì e me l'ha fatta io sapevo che era per una parte veniva a vuoto un fotogramma e dopo la portavo a Pescara a fargli ruppare quindi di quel vestito di me di quelle case di via di Montesilvano mi ricordo abbastanza bene a me Bruno questa foto non me l'ha mai fatta vedere l'ho vista io qualche anno fa perché me l'ha data un giornalista ha detto conosci questa cosa? sì questo sono io ma quindi non ne so niente eppure compare questa entità spirituale che ha appunto questa specie di cuore nel petto volevo soltanto concludere questa prima parte che facciamo una brevissima pausa prima delle domande che immagino saranno tante visto che abbiamo qui testimone oculare una domanda appunto a Biagio so di mettete un po' in difficoltà però nel 78 se ne vanno no? gli UFO che escono dal mare sono loro che lasciano la base praticamente dell'Adriatico se ne vanno ma dove vanno vanno via vanno a casa vanno in un'altra base terrestre non se ne sono mai andate sono ancora lì? ti rispondo ma volevo dire prima una cosa che esora un attimino da questa domanda che è di tipo tecnico perché mi fa estremamente piacere dirlo io ho riscontrato il riscontro trovo questa questo grande affetto questo amore che sprigiona il signor Gaspare dell'Ama scusate perché non c'è più questa purtroppo l'amico di Biagio che gli ha fatto queste confidenze è mancato non c'è più quindi per lui è un modo per ricordarlo per omaggiarlo ma è sempre difficile parlare perché ti vengono in mente i momenti in cui eravate assieme giustamente è comprensibilissimo e ti fa solo onore quindi tu vedi in gaspere questo tuo amico vedi nei suoi atteggiamenti quelli che aveva il signor X sì cioè ti viene voglia di abbracciarlo la stessa cosa che io facevo con questa persona dopo non si perché non si sa mai cosa possono pensare e quindi ecco sì c'è questo questo afflato che ho riscontrato in questa persona ma sono ancora fuori non se ne sono mai andati no adesso se volete due minuti davvero di pausa per un caffè certo ecco per finire se ne sono andati non se ne sono andati intanto erano qui usando il nostro URETA fin tanto che lo trasmettevamo perché loro potessero aiutare il nostro maniera il nostro pianeta in maniera occulta noi non sapevamo quello che facevano potevano essere un dieve ripulire delle scorie poteva essere un aiuto animico non lo sappiamo potevano stare qui da aiutare il pianeta fino che noi davamo URETA quando se ne sono andati è tutto è finito per 50 anni io mi sono tenuto rimuginato perché non era inutile parlare ma si doveva parlare poi un anno fa circa forse meno una psicoterapista di Bologna non conoscevo molto molto bella molto preparata moglie di un dottore che lavora all'ospedale di Bologna sposata quindi con figli mi ha telefonato spiegandomi che doveva parlarmi aveva lei riceveva da uno spirito guida di UFO non si interessava ci credeva ma non si interessava e riceveva quindi era una canalizzatrice di uno spirito guida un bel giorno riceve Sigir e allora parlando così con degli amici dico io questo Sigir c'è un amico dice ma Sigir era uno dei 156 io conosco un mio amico che è di Bologna che abita a Bologna e lei lo conosco io te lo faccio presentare io lei mi ha telefonato insomma in poche parole è venuta giù a Mandello e mi ha detto io ricevo da Sigir e dico che bello allora si è messa lì e ha ricevuto non va entrando niente parla comunemente con me parlava piano perché intanto che riceveva scriveva sul suo piccolo computer e mi ha detto ciao Gaspar il discorso è stato un po' più lungo vi dico solo poche cose che riguardano questo tema dei V56 ciao ciao Gaspar mi ha dato dei consigli sui miei saluti esatti e poi mi ha detto guarda che contrariamente a quello che pensi tu la faccenda amicizia non è fallita non è un fallimento io credo abbiamo fallito se ne sono andato perché per il tempo che è durata che siete riusciti a farlo è stato sufficiente a far sì che noi potessimo aiutare la terra su altri piani ecco adesso non mi ha detto se erano qui o no ma ha detto qui io riferisco quello che mi è stato detto secondo questa persona non se ne erano andati tanta che lui veniva era spesso vittima di scherzi come li definiva lui come il mi ricordo sempre questa cosa che tra l'altro lui raccontava sorridendo camminando in una strada con i lampioni come passava il lampione si spegneva e dopo un passo si riaccendeva questo accadeva con il lampione successivo con il cammino successivo a un certo punto lui ha pensato che si trattasse di una coincidenza e quindi è tornato indietro il lampione si spegneva e poi si accendeva ecco ecco noi senza conoscersi sono anche un po' burloni alla fine non avrei paura insomma c'è quasi da stare in buon umore con loro non ce l'avevano adesso siete d'accordo facciamo due minuti due di pausa per un caffè chi vuole per un goccio d'acqua per noi e poi torniamo con la tavola rotonda con anche Pablo Aio e Roberto Pinotti a parlare proprio in dettaglio di alieni tra noi vediamo cosa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti